Domani si torna in aula per la causa Bissa alle 9.30 al Palazzo di Giustizia ci sarà l'ultima udienza civile sulle responsabilità per la morte di due ragazze Jenny e Giusi Antonini in via Campodifossa. Si discuterà nel merito della causa per il risarcimento ai familiari delle due ragazze morte il 6 aprile del 2009. Stessi attori, stessi legali della sentenza shock di un mese fa della giudice Monica Croci che ha segnato come ormai ben tristemente noto il 30 per cento delle responsabilità alle vittime per aver avuto un comportamento incauto a suo giudizio nel non uscire di casa sentenza che ha indignato l'intera città e non solo. Non ci sarà però la Croci il giudice della causa Bissa e Baldovino De Sensi. Il suo è il primo pronunciamento giudiziario dopo la sentenza della Croci comprensibile dunque l'attenzione puntata su questa causa. La causa delle due sorelle doveva andare a sentenza con quella delle altre tre giovani vittime ma ci fu un problema con i fascicoli che nel frattempo sono stati ricostruiti. Dunque il 26 ottobre è partita la causa Bissa con la prima udienza nella quale però Baldovino De Sensi ha dato mandato ai legali delle parti di ricostruire i fascicoli riguardanti la causa delle due sorelle rinviando la trattazione a domani appunto. Udienza quella di domani che potrebbe essere l'ultima con il pronunciamento poi della sentenza nei prossimi giorni. Ovviamente come si spiegava c'è morta attesa per vedere il comportamento del giudice se userà cioè lo stesso metro di giudizio della Croci o farà come accaduto in tutte le altre sentenze sui crolli dando cioè la responsabilità agli eredi del costruttore ai ministeri competenti. Come si sa però dopo la sentenza shock ci sarà anche il ricorso in appello. I ricorsi al momento sono due. Il primo è quello dei familiari delle tre vittime. A rappresentarli sarà l'avvocato Luciano Angelone. Il secondo ricorso invece è quello del comune dell'Aquila presentato dall'avvocato e dirigente comunale Domenico De Nardis che lamenta un evidente errore nella sentenza che impone al municipio aquilano di pagare circa 13 mila euro di spese legali per aver chiamato in causa gli eredi del progettista dell'edificio crollato. Per il comune la sentenza ha stabilito che l'ente non ha responsabilità dunque la sentenza stessa che gli impone di pagare è sbagliata.